L'Italia è l'unico paese europeo che metterà a bando la gestione delle centrali idroelettriche nazionali. Questi impianti sono strategici per il paese, sia per la gestione, si cita alluvioni, ma soprattutto per la produzione di energia elettrica. Le centrali producono il 20% dell'energia totale e il 40% di quella rinnovabile, oltre ad essere l'interruttore che fa ripartire il paese in caso di blackout. Tutto comincia quando l'Europa, per le regole sulla concorrenza, impone ai paesi membri di mettere a bando le proprie centrali e tutti eseguono. Poi nel 2021 l'Europa fa decadere l'obbligo e tutti i paesi annullano i bandi, tutti tranne l'Italia. Il governo, allora presiduto da Mario Draghi, mantiene il provvedimento e oggi l'attuale governo ha un problema da risolvere. Valuteremo la possibilità tra i vari contrattisti, quelli che hanno firmato questo contratto, che sono l'Unione Europea e la Repubblica Italiana, di quelle che possono essere le clausole di modifica. Ma non ci stiamo dando la zappa sui pieni? Siamo gli unici che mettiamo a bando le nostre centrali? Siamo anche gli unici che hanno firmato un contratto. Una questione che preoccupa anche la Confindustria. Questo è un errore sotto il profilo del mantenimento di asset così strategici all'Italia, ma diciamo anche che se immaginiamo di aspettare l'esperire di tutte le procedure per la riassegnazione e concessioni, prima di dieci anni non si faranno investimenti e dato che questi dieci anni saranno i dieci anni fondamentali per la transizione energetica, noi chiediamo alle autorità di costruire insieme una normativa, confrontandoci con l'Unione Europea, che consente il rilancio immediato di questi investimenti. Stiamo parlando di circa 15 miliardi di euro complessivamente.